La scelta di Paolo non si farà più Uomini e donne, la scelta di Paolo non si farà più? Il tronista è sparito Uomini e donne, Paolo Crivellin farà la sua scelta? Ecco cosa è successo con Marianna e Angela. Il trono di Paolo Crivellin si fa sempre meno chiaro. Il giovane ex di Temptation Island non sembra riuscire ad arrivare ad una scelta definitiva. Il tronista continua ad essere incerto su quale delle sue due corteggiatrici prova più interesse. Marianna e Angela sono state entrambe baciate e proprio a causa dell'atteggiamento del giovane hanno deciso di andare via. . In ogni caso, dopo la puntata di Uomini e donne in onda oggi, 23 gennaio 2018, le due torneranno in studio per ricevere dal giovane una strana richiesta. . Il ragazzo ha infatti pensato di invitarle a trascorrere alcuni giorni insieme. . Dopo quell'invito, le corteggiatrici hanno dichiarato di voler avere del tempo a disposizione per pensare un attimo a cosa realmente volevano fare. . Ad oggi, le cose continuano a non essere chiare a nessuno. . Il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi non riesce a comprendere che fine abbiano fatto i tre. . . Dopo la richiesta di Paolo riguardo il weekend da trascorrere con le due corteggiatrici, non si è saputo più nulla. . Nelle registrazioni seguenti a quella trasmessa oggi 23 gennaio e a quella in onda la prossima settimana, i tre diretti interessati non sono mai più tornati nello studio del trono classico. . Non è chiaro a nessuno cosa sia potuto accadere. . Ad ogni nuova registrazione si spera che Crivelli intorni e faccia finalmente la sua scelta o decida di comunicare a tutti il suo ritiro perché ancora molto confuso sul da farsi. . . In ogni caso, non è accaduto nulla di simile. . Senza alcuna spiegazione da parte dei diretti interessati e, o dalla redazione del programma, i tre sono come scomparsi nel nulla. . . Paolo Crivellin, la scelta uomini e donne non ci sarà? . Ultime news sul tronista e le corteggiatrici Angela e Marianna. . Maria De Filippi non ha ancora spiegato ai suoi telespettatori il motivo per cui Paolo, Angela e Marianna non si facciano vedere in studio da ben due registrazioni. . Senza dubbio, molto presto scopriremo cosa sta accadendo. . L'ipotesi più papabile è che la redazione abbia deciso di dare a Crivellin l'opportunità di trascorrere alcuni giorni con entrambe ragazze. . Se così fesse, siamo certi che nel corso della prossima puntata torneranno in studio per spiegare cosa è accaduto e come il giovane ha deciso di concludere il suo percorso. .